Anche l'IVA è una imposta sui costi della vita. Comunque, io in apertura ho detto che per trattare l'argomento che ho posto occorreva una sessione più ampia. Rimango dell'avviso, gli ultimi che ha indicato Gravonsky e anche altri che sono intervenuti lo confermano. Non c'è un problema di debito pubblico. Quando decidi di abbandonare l'euro lo ridenomini in lire e stabilisci che la lire vale quello che vale oggi, mille. E automaticamente hai risolto il problema. Sono anche i commercianti che hanno deciso che l'euro vale mille. D'altronde, io a più riprese ho insistito su politiche alternative da subito. L'ho letto, l'ho scritto nel mio libro Eresi, Esorcismo o altro. In cui ho detto che doveva spiegare perché un governo tecnico non aveva iniziato dall'accessione del patrimonio pubblico e dal taglio della spesa pubblica. Invece di passare dall'aumento della pressione fiscale che ti finanzia l'ulteriore inefficienza dello Stato e ti crea spinte deflazionistiche. Nicola Rossi in un incontro pubblico, quindi non rivelo cose che si dicono in privato, mi ha dato ragione e ha detto che Mario Monti stava facendo oggi quello che doveva fare all'inizio. Cioè la cessione del patrimonio pubblico, anche fatta poi in modo diluita, quindi non serve perché non ha un effetto forte di annuncio sul mercato. Quando mi sono reso conto che il discorso era ormai sfilacciato, sette proposte, Grilli che dice faremo 20 all'anno, la spending review 4 miliardi e mezzo, qui squiglia assoluto, ho detto no così non funziona, allora ho lanciato la proposta del consolidamento del debito pubblico, una lunga negoziazione e là Roberto Napoletano ha avuto il coraggio di pubblicarlo, quindi andava controcorrente a Colitti che è nella linea di quelli, per carità ci sono delle cose di cui non si può discutere, che è il problema del paese, che solo le ideologie, sono tutti problemi. La mia risposta è che non è né un problema di domanda, né un problema di offerta, né un problema di leadership geopolitica, come ha detto Carlo Scognamiglio, ci può essere un problema di leadership domestica, sottolineato da Piero Craveri, e sono d'accordo che la scelta di quello che puoi fare, datti vincoli che tu non riesci assolutamente a cambiare. Cioè, rispondo a Carlo, Carlo, l'intervento di Obama o di Geithner, che è venuto in Europa e ha parlato prima con Draghi e poi con Merkel e poi è tornato con Gradi, praticamente un intervento perché hanno il terrore che salta l'Europa e se salta l'Europa salta Obama, quindi non c'è niente di nuovo sul fronte occidentale, però può darsi che ci sia, però anche se ci fosse come dici tu, non serve assolutamente a niente, perché il problema sono le istituzioni. Volete riflettere sul concetto che è l'istituzione? Enzo Grilli, prima di morire, ha scritto un libro bellissimo, che ha scritto solo in italiano, stava iniziando la versione inglese, ha analizzato lo sviluppo di 40 paesi nel mondo e ha stabilito che la dotazione iniziale, che può essere di materie prime o di lavoro a basso costo, come ha avuto anche l'Italia, è un fattore molto importante per il take-off, ma se vuoi mantenere il volo, cioè il livello di sviluppo, tu devi fare delle buone istituzioni. Quindi il messaggio che ho portato questa sera è che le istituzioni europee sono sbagliate, i tedeschi possono fare, tu mi hai interpretato male come al solito, i tedeschi possono fare, perché io non ho mai chiesto l'uscita dell'euro, ho detto preparatevi a farlo, mi auguro che la Banca d'Italia abbia il progetto, ma il paese non ce l'ha, il paese non ce l'ha, contrariamente alla Germania che ce l'ha. Quindi l'hanno pubblicato integralmente ed è molto chiaro cosa deve fare la Grecia, come devono fare gli altri paesi. sono pronti se dovessero uscire, non escono perché gli conviene, ma perché non gli conviene? Perché ha ragione Rinaldi, il meccanismo va a loro favore, quando tu fissi un cambio in modo irreversibile, l'euro irreversibile significa che è il cambio irreversibile, in una situazione di aria monetaria non ottimale, tu hai lo sviluppo che se ne va in Germania e gli altri che torno indietro, io vi ho parlato di questo. Quindi anche se ci fosse una nuova politica dal lato dell'Occidente, se non intervengono a modificare e non ci riusciranno mai, perché i tedeschi ovviamente funziona bene al loro favore il meccanismo, ma per quale motivo dovrebbero cedere, e lo stesso Draghi, accettando per far passare la proposta la condizionalità, quella che la Spagna di Rajoy non vuole prendere, ha praticamente reso impossibile l'efficacia del provvedimento, come dimostra il fatto che chiaramente la speculazione sa che lui interverrà, e quindi mezzo punto l'ha ceduto su uno spread italiano di quattro punti, è andata a 3,50, oggi a 3,71, perché ogni sussulto evidentemente torna su, e quindi è l'istituzione che funziona male. E' quella che dobbiamo affrontare. O noi parliamo seriamente, abbiamo il coraggio di prendere di petto pagando costi altissimi, oppure noi ci infiliamo, ve l'ho detto più o meno, in un degrado lentissimo a cui gli italiani si adattano. E la miglior risposta, e poi chiuda gli altri argomenti, la miglior risposta è quella che mi ha dato un povero disoccupato della cittadina di Cabras, in Sardegna. C'è la prima settimana, alla fine della prima domenica di settembre, c'è la Corsa degli Scalzi, che è un qualcosa dal punto di vista democratico perfetto. Tutti si vestono di bianco, con una tunica, sono scalzi, si caricano una statua di San Salvatore, e la portano in un paesotto vicino, si fanno 7 chilometri, si sanguina in piedi. Insomma, è un rito, ovviamente, ancestrale, ma un rito è cosa. Io l'ho visto appoggiato e gli ho detto, lei cosa fa? E dice, sono disoccupato, come fa a vivere? Dice, io vado a pesca, adesso inizia l'autunno e prendo i funghi, e poi quando viene l'inverno gli asparagi. Tutto ciò che ho in più le do in cambio di altri prodotti, come la carne, il pollo, eccetera, eccetera. Quella è una bellissima spiegazione, e gli ho detto, ma è possibile? Lei ha solo in questo modo da mangiare. Dice, il problema è avere la casa di proprietà, altrimenti non si campa. E dice, ma se c'è la casa di proprietà avrai altri problemi. Sì, le bollette della luce. Tu hai descritto esattamente come il mezzogiorno d'Italia, in una fase di assoluta abbandono di industrializzazione, si adatterà. Agli altri andranno, riprenderanno le pecore, e andranno a pascolare le pecore, questo è un pescatore, quindi viene da Cabras, dove sono gli stagni, e faranno questo. Noi dobbiamo avere paura di questo. L'aggiustamento... Esatto. E questo, quindi, significa accettare la egemonia economica. La egemonia economica di questo gruppo forte, gli olandesi, gli austriaci, che hanno un... Tutti se la pillano col surplus della Cina. La Cina ha il 2,2% di surplus del bilancio dei pagamenti sul suo PIL. La Germania ha il 5,5%. L'Olanda ha il 7,7%. La Norvegia ha il 14%, va bene che ha il petrolio. Questo significa che noi abbiamo un meccanismo che ci uccide. Un meccanismo di regresso. Se gli italiani non sono disposti a prendere di petto il problema delle istituzioni, o facendoseli dare, ma le mie speranze sono nulle, spero che siano nulle anche per voi, non so da dove vedete fuori, perché la condizionalità è il rafforzamento della politica che porta a queste condizioni. Non è nella strada verso l'unione politica, né nient'altro. Quindi la situazione oggi è una situazione che dobbiamo considerare drammatica. È chiaro che se ci fosse un leader internazionale, che non può essere ovviamente Mario Monti, perché un leader internazionale deve avere pure il paese dietro, che in questo caso non ha. E come si dimostra oggi, non siamo prima disposti a discutere seriamente dei problemi, spingendolo fino al coso. L'abbiamo fatto, abbiamo senz'altro scambiato le opinioni, però voglio insistere sul concetto. Non è un problema di domanda, non è più un problema di offerta, peraltro sotto Giorgio Lamalfa la politica di offerta l'avevamo portata molto avanti quando eravamo al Ministero del Bilancio. Non è un problema di leadership globale, perché non la puoi avere. Certamente c'è un problema di leadership interna. Quindi prepararsi a questo vento, consolidando oggi in queste condizioni, il debito pubblico, cioè incominciando da un aspetto, è chiaro che la gente reagisce violentamente, ma se tu metti il debito pubblico da parte e ti rendi praticamente per un certo numero di anni, perché io propongo di consolidare tutti i titoli a sette anni, offrendo in contropartita a quelli che ce l'hanno a 30, di tornare a sette anni, gli dai uno warrant che è proposto di Rinaldi sul patrimonio pubblico, e quindi se riesci a valorizzare il patrimonio pubblico e devi farlo, avresti anche un guadagno, gli paghi l'inflazione, gli paghi l'inflazione, probabilmente l'operazione va avanti. Se ci aggiungi anche la garanzia che questi titoli non subiranno una patrimoniale, quella che Bersani e Cofferatti l'ha ripetuto in pubblico l'altra sera quando io ero all'infedele di Galdellern, hanno detto che lo so Savona che non vuole la patrimoniale, ma la patrimoniale è quello che dobbiamo fare, sarà la cosa che faranno. Se tu in più offri in una operazione di consolidamento del debito pubblico pure l'esonio di questi titoli dalla patrimoniale, io sono convinto che tutti corrono ovviamente a effettuarla. E quindi prepararsi a un evento che però dobbiamo naturalmente discutere durante la campagna elettorale. Se riusciamo a fare una campagna elettorale che parla di queste cose, invece di negarle o di dire non si parla, se no i tedeschi si addirano, che me ne frega che i tedeschi si addirano. Io gli riconosco il diritto di utilizzare i vantaggi che hanno, io non glielo contesto, io non ce l'ho con i tedeschi, io ce l'ho col fatto che l'Italia ha firmato un accordo, cioè ha messo in piedi quello che Guarino chiama un organismo bio-giuridico che si è messo a funzionare da solo e che ci massacra. E quindi o riusciamo a cambiarlo e non ci riusciamo, oppure dobbiamo subire delle conseguenze gravi che però ci ridanno la possibilità di rientrare nel circuito dello sviluppo mondiale. Se gli Stati Uniti ci appoggiano e può darsi che in una situazione del Nord Africa ancora indeterminato, noi possiamo avere una qualche chance di politica estera e strategica che induce gli Stati Uniti a darci un minimo di copertura per l'operazione come ha dato la copertura dell'Europa, può darsi che facendo anche questo tipo di politica estera si possa vedere un po' di rosa nel futuro ma chiaramente sottoporre gli italiani a un sacrificio notevole di adattamento a una situazione completamente cambiata. Credo che questo sia stato uno degli incontri più interessanti che noi abbiamo avuto perché siamo andati alla sostanza dei problemi poi si può arrivare a delle conclusioni diverse si può sperare che le cose non siano così quando si intravede un futuro che va in una certa direzione uno può dire può darsi che qualcosa lo fermi può darsi che arrivi un cambiamento dell'America possono succedere molte cose però l'importante è che questa sera abbiamo guardato abbastanza a fondo nel problema europeo nel problema italiano molto cose su cui ci sarà molto da riflettere la cosa è che il mio giudizio diciamo così la mia preoccupazione rispetto al governo Monti è esattamente un'osservazione che ha fatto Piero Craveri cioè noi in questo momento non abbiamo un leader italiano abbiamo avuto una marionetta per molti anni che era Berlusconi che diceva l'Italia ma era una marionetta ma aveva però un'aspirazione abbiamo un leader che consegna per così dire il paese a una disciplina europea nella convinzione lo ha descritto bene Gavronsky nella convinzione che l'equilibrio dei conti determina degli effetti degli effetti diciamo sani per spiegare questo meccanismo qualche tempo fa una conferenza non so se c'era che tu a Venezia c'era un deputato tedesco molto autorevole che si occupa di economia della commissione monetaria democristiana amico della Merkel persona autorevole c'era il nostro senatore Baldassari che è un buon economista che sostiene la necessità di fare qualcosa per la disoccupazione a un certo punto questo tedesco seccato gli ha detto senta caro Baldassari sia chiaro che i paesi che hanno il debito pubblico in ordine e i bilanci in ordine sono quelli che hanno la più bassa disoccupazione in Europa che è vero aspetta che è vero allora io gli ho detto lo conosco da quando ero deputato ho detto guarda io non discuto questa statica cioè i paesi che hanno bassa disoccupazione hanno i conti in ordine il problema è che bisogna che ci mettiamo d'accordo che cosa causa che cosa cioè tu sei convinto che se io metto i conti in ordine magicamente creo un tale ottimismo all'interno che tutti spendono sapendo che da domani è all'estero tutti vogliono venire in Italia perché l'Italia ormai è il paese dove tutto è in ordine oppure se tu fai la piena occupazione a spinte a calci come la vuole fare Bernanke allora potassi che alla fine i conti vanno in ordine perché quando tu hai fatto la piena occupazione tutti producono pagano le tasse e i conti vanno in ordine quindi non mi dire che i paesi virtuosi sono anche quelli che vanno economicamente meglio perché potassi che chi va economicamente meglio diventa virtuoso senza fare alcuna fatica quindi noi questo problema non lo risolviamo con allora cosa manca a questo paese Mario Monti pensa esattamente questo cioè lui pensa che l'Italia debba diventare un paese virtuoso ed è naturalmente agevolato dal fatto che siccome non deve rendere conto agli elettori della disoccupazione perché dice la disoccupazione viene dagli errori che hanno fatti i predecessori e dalle cose che non faranno i miei successori infatti mi ha molto sorpreso che lui abbia detto che vuole fare il presidente del consiglio perché secondo me non lo vuole fare affatto il presidente del consiglio perché se fai il presidente del consiglio noi oggi possiamo cominciare a dire a Mario Monti ma non potevi fare meglio a gennaio quella certa cosa che hai fatto in quel modo e febbraio non potevi fare un po' meglio tra due anni la gente dirà ma tu hai governato due anni e questi due anni il paese va meglio o non va meglio quindi è chiaro il problema che si pone è quello che ha posto Piero Graveri cioè qui oggi non c'è nessuno che parla di come tirare su l'Italia e rimetterla a camminare questo manca nel mondo politico cioè non c'è in questa disperata campagna elettorale alla quale si avvia non c'è uno che dica perché quello dice io faccio la modifica generazionale queste erenze Bersani è preoccupatissimo a destra non c'è più nulla a destra non c'è più una voce quindi sostanzialmente oggi e che cosa sarebbe indispensabile sarebbe indispensabile un primo ministro il quale andasse dai tedeschi e dagli americani agli americani a fargli dei discorsi come questi ma voi volete veramente non avere interlocutori in Europa che non sia Berlino? volete veramente non avere allora cercate di darci una mano a dare a creare un maggiore equilibrio e ai tedeschi dirgli guardate che voi non ci potete raccontare le storie come ce le raccontate che noi facciamo i nostri compiti a casa ma sappiamo anche difendere il nostro paese questo è un problema aperto perché l'Italia oggi non ce l'ha e se non ha una classe dirigente oggi e non c'ha una classe dirigente perché non ce l'ha il paese è chiaro che è abbandonato a se stesso quindi andremo male questa è diciamo la conclusione a cui possiamo arrivare il giorno il giorno il giorno il 17 ottobre che è cos'è mercoledì il 17 ottobre alle 6 alla sala della camera la biblioteca via del seminario così via passo san macuto la biblioteca parla per la fondazione David Calleo Calleo è un molto intelligente professore americano che insegna alla Johns Hopkins non è un economista è un politico economista ha scritto una serie di libri sul declino della potenza americana e così via e si chiama la crisi europea vista dall'America è una cosa di grande interesse dopo di che faremo il nostro cenacolo alla fine del mese il giovedì è più divertente il cenacolo naturalmente perché qui alle 6 alle 6 del giorno 17 di ottobre molto interessante Paolo che scrive moltissimi libri ha appena pubblicato o ripubblicato un libro a cui faccio propaganda che si chiama che cos'è l'economia che sono 5 lezioni che lui fece a Napoli alla scuola filosofica di Marotta ma non solo che sono ancora molto aggiornate quindi chi è interessato l'editore si chiama Mind o Mind la Giorgio Lamarfi in memoria di una scienza morta più che triste Paolo Savona ma insomma comunque credo che il dibattito di questa sera dimostri che non è proprio morta grazie a tutti per questa bellissima serata e a presto